Azione ha ufficializzato il sostegno a Carlo Antonetti, quindi si può dire il primo componente della squadra è ufficiale. Sì, il Consiglio Provinciale e Comunale di Azione ha deliberato e ha scelto di aderire a questo progetto così particolare, così civico, così per la città di Teramo e per i cittadini. Sono veramente contento e onorato che abbiano apprezzato ovviamente la mia persona, ma soprattutto il percorso e l'idea di città che abbiamo e che vogliamo costruire. Civismo, le chiedo, sarà la parola chiave? Sì, perché è alla base della mia scelta, quindi è quello che mi è piaciuto, è quello che mi ha stimolato e mi ha entusiasmato e mi ha fatto fare una scelta che obiettivamente non rientrava nei miei pensieri, e che è stata come un fulmine a ciel sereno, che però è stato un appello ad avere coraggio, a dare coraggio ai cittadini, a dare coraggio a tutti noi di trovare un'identità teramana, di avere un senso di appartenenza forte per fare il meglio della nostra città dove viviamo, dove vivono i nostri figli e dove dovremo costruire un'idea così di città una città diversa da quella attuale, molto più piena di colori, vedo molto grigio, quindi noi dobbiamo ridare colori a questa città.